Potenziare la strada provinciale 94 che va dall'Imena a Carmignano di Brenta fino a Cartigliano con innesto nella pedemontana Veneta. A chiederlo in un'interrogazione parlamentare al governo indirizzata al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli è il senatore Udc Antonio De Poli che porta in Parlamento la questione della viabilità nell'Alta Padovana. A partire dalla 308 alla provinciale 47 e oggi la strada provinciale 94 che va da Padova a Piazzola, passa per Carmignano fino all'innesto con la pedemontana Veneta. Le risorse ci sono, l'Italia riparte se ripartano le piccole, grandi opere dei nostri territori. Parliamo di una delle aree più urbanizzate e industrializzate del Veneto, dell'interno nord-est, è il sistema viario della regione che va rivisto e riorganizzato, mette in evidenza De Poli. Opere indispensabili per questo territorio che oggi registra un livello di traffico importante, di mezzi pesanti e leggeri, oltre 38.000 transiti al giorno in un'area che può crescere e svilupparsi. Si tratta di una battaglia che da anni portano avanti i sindaci dei territori insieme alle categorie economiche. Una nuova viabilità sull'asse Padova-Bassano è un fattore non più rinviabile, sottolinea ancora De Poli, serve un'alternativa alla Val Sugana. È in gioco il tessuto socio-economico del Veneto che ad oggi non si può permettere di rimanere fuori gioco dai principali corridoi commerciali in Europa.